L'anno della rinascita per la dignità umana e l'anno della rinascita per l'arte e la buona notizia che ho visto ieri che l'album più venduto dell'anno è l'album di Spera e Basta a ma posto, siamo nella merda Siamo partiti bene, grande vino, buon anno Ragazzi ma porca puttana, ma che vi è successo? Cosa vi hanno fatto? Che droga vi danno tutti i giorni? A posto del caffè e latte i vostri genitori? Spera e Basta, questo cos'è che dice nei testi? Ehi tipa, prendi la tua amica e vieni in hotel con me Ma a parte che è una tipa che va con uno così Che tipa è? Va con un cinghiale? Questo è un cinghiale, non è un essere umano proprio E la musica ragazzi, ma quale musica? Ma questa è merda Vabbè ragazzi, ma che ve lo dico a fare, ma andate a fare in culo Ehi Jack!